La nuova squadra assessoriale del sindaco di Pasquale a pochi giorni dalle elezioni ha inaugurato la propria attività questa mattina, approvando due atti di indirizzo all'insegna dei tagli alle spese e del no al nucleare come principio comune. La seconda delibera ampiamente annunciata dal sindaco come primo atto nel nuovo corso, mettere il taglio al tetto massimo di spesa per missioni di consiglieri e assessori, da 500 a 250 euro, rappresenta una piacevole novità in tempi di crisi economica anche al comune di Ragusa. Ora abbiamo riabbassato questo tetto a 250 euro, quindi il resto a carico del sindaco e degli amministratori. E poi abbiamo ribadito il no al nucleare, così come avevamo fatto con la delibera con la precedente amministrazione, la numero 37 del 2010, oggi la nuova giunta e il nuovo governo che accompagna questa sindacatura ha ribadito il proprio no al nucleare. Facce distese serene tra i sei assessori che hanno ribadito il clima comune di collaborazione per lo sviluppo futuro della città. Molti già con idee chiare per progetti nei settori di propria competenza. Alcuni, come Mario Addario, attendono ancora però la relazione dei dirigenti. Soddisfatto di Pasquale che sottolinea anche le posizioni personali sulla questione referendaria e a proposito della questione calda dei rifiuti appare sereno. Dei tre sì per i motivi che ho detto, quello dell'acqua pubblica, il nucleare, sono espresso su questo, l'acqua pubblica ritengo che non ci siano le condizioni, non mi sento sereno per poter dire sì all'acqua privata e sul legittimo impedimento penso che insieme alle altre cariche dello Stato ci sono i sindaci che vanno tutelati.